Sono tornati gli assistenti sociali e questa volta si sono presi i bambini, non hanno voluto sapere proprio niente, hanno detto l'altra volta signora ve l'abbiamo fatto passare ma adesso ce li prendiamo, ma come ve li prendete? Come ce li prendiamo? Noi ce li prendiamo, abbiamo controllato tutti i vostri social, non ci sta un video, mezzo video, non ci sta che questi mangiano e chiacchieregono e parlano, niente, ma ho detto mentre noi mangiamo, noi mangiamo, non mi chiacchieriamo oppure metterla a riprendere, devo fare i piatti, non posso riprendere i miei figli, no, no, li dovete riprendere perché sennò sono scemi, eccoci sono scemi, ma come? Eh no, non sono capace di fare un discorso davanti mentre mangiano un primo, un secondo, non è possibile, ma come sono scemi tutti i bambini, chiacchierano, mangiano, fanno, no, no, non li riprendete signora, allora perché non li riprendete? Perché? Vi mettete i vergogni perché sono scemi, e beh, ma no, niente, non c'è stato perso, ha detto, ma poi escono di casa, escono di casa, nemmeno una fotografia davanti a uno specchio per far vedere quello che si sono messi, ma come ragionate signora, ma come ragionate? Allora non li vestite, li fate andare col pigiama, ma non li faccio andare col pigiama, io ho detto, ma non c'è stato perso, hanno cercato su tutti i social, non c'è stata una fotografia, perché giustamente io li vesto, usciamo, non è che ci mettiamo là a fare la fotografia, quindi, non c'è stato perso, ma ho detto, ma quelli dei vostri bambini, per esempio, sanno cucinare, sanno cucinare, almeno un panino lo sanno fare, e io sì, un panino lo sanno fare, e non lo sanno fare, e non lo sanno fare, perché non ci sta manco un video di loro che fanno un panino, un piatto di pasta, niente, che figli avete signora, ma che figli avete, sanno fare un panino, sanno fare un panino, lo sanno fare, e voi, se fanno un panino, li dovete mettere subito, subito sul social, perché così tutti quanti possono dire, ma come sono bravi, ma come sono belli, ma come sono intelligenti, i vostri figli, ma non c'è bisogno che me lo dicano gli altri, ma perché, ma perché, non lo sanno fare, no, no signor, è importante, è importantissimo, è importantissimo, è la cosa che proprio, non hanno potuto, niente, poi signor, ma un'attività, no, 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 ma le fanno le attività, come le fanno, non è bene, non le fanno, non le fanno, perché non ci sta niente, non ci sta, insomma, non hanno trovato niente, e comunque, mi hanno dato una specie di, di ricetta, ho detto, forse se li prendono, se li prendono, per un po' così, le fanno stare un po' tranquilli, a questi bambini, che diceva, li li maltrattiamo, poi me li riportano, e mi hanno fatto una lista, allora, quando mangiamo, io dobbiamo fare il video, dobbiamo mettere lei il telefonino davanti, e quelli devono parlare, hanno chiacchierato, che devono dire, voi metteteglielo quello sicuramente, dicono qualcosa di intelligente, di interessante, per tutte le persone del mondo, stanno lasciando a loro qualcosa di fondamentale, che loro dicono, e io non pensavo, cioè, non pensavo che a uno ci interessava, no, no, signor, ci interessano, escono, dovete fare la foto, perché sennò noi pensiamo che voi non li vestite bene, e dovete pure mettere che cosa si mettono, sotto, sopra, tutto, tutto, scarto, calzini, tutto, e poi se fanno le attività, le dovete scrivere, e poi se fanno, che ne so, un panino, lo dovete mettere sotto, tutto, perché io, che difficile sto stufato, e non lo so se ci riesco, ma mi speriamo bene, fra un po', ma se li sopportate, le abitano un po' loro a fare questi video, a parlare un po' davanti alla telecamera, così, vedrò un po' se, se si può far soffare, un po', vediamo bene, vi volevo solo avvisare, perché so che comunque voi, pure l'altra volta, mi avete confortato, mi avete, vabbè, poi vi aggiorno.